qualcuno di voi vuole sbagliarsi se nessuno di voi vuole sbagliarsi allora ognuno di voi vuole essere scienziato cioè vuole non cadere in contraddizione per questo si formano le singole scienze affinché in ciascun ambito in ciascun ambito particolare si sappia si abbia conoscenza cioè non si con ci si contraddica ora però in grecia si fa sempre più consapevole di pensiero che per conoscere la parte dobbiamo conoscere le relazioni che essa intrattiene con le altre con le altre parti per cui per conoscere la parte bisogna rivolgersi alla totalità delle parti all'universale al tutto questa consapevolezza che per non contraddirsi nel particolare ci si debba rivolgere all'universale storicamente si è chiamato filosofia questo comporta che per essere scienziati bisogna essere filosofi e per essere filosofi si debbe si deve essere scienziati cosa potrebbe dire infatti il filosofo sul tutto se non conoscesse le parti di cui questo tutto è composto e a che varrebbe la ricerca dello scienziato se non conoscesse l'ambito l'ambito generale l'ambito totale poi entro cui la sua specifica ricerca si conduce e ci si chiede ancora a che cosa servano la filosofia e la scienza la filosofia e la scienza sono la vita stessa che tenta di non cadere in errore di non contraddirsi di non fare ciò che non avrebbe voluto fare di non dire qualcosa che smentisce il suo precedente dire annullandolo la massima scienza la massima scienza è perciò la filosofia e la scienza si fa massima quando è consapevole di essere una filosofia di avere una filosofia di esplicitare ciò che è implicito nell'ignoranza iniziale che la muove quando oggi si dice che le scienze dovrebbero comunicare tra di loro a quanta ignoranza si cela attorno a questa esigenza e ci si chiede ancora a che cosa servano la filosofia e la scienza la filosofia e la scienza sono la vita stessa che tenta di non cadere in errore di non contraddirsi di non fare ciò che non avrebbe voluto fare di non dire qualcosa che smentisce il suo precedente dire annullandolo grazie